La paura di essere criticati nel nostro esperimento settimanale Buongiorno e benvenuti al caffettino, io sono Mario Moroni e come ogni giorno alle 7.30 parliamo insomma di social, di novità, di tutto quello che ruota attorno al mondo del business però in questa settimana stiamo facendo un esperimento, un nostro esperimento cioè di prendere un articolo, quello di Scandell sulla paura di esporsi e come dire approfondire una delle 5 paure citate oggi parliamo di paura di essere criticato è una paura come dire, che quasi non ricordo più no nel senso non è vero, non è vero, ho detto una cavolata spesso mi arrivano critiche e ogni tanto mi fanno anche incazzare posso dirlo oggi, è estate ragazzi, va bene così no però è una paura insita chiaramente all'interno del nostro lavoro perché la critica è inevitabile specialmente se fai qualcosa di originale, controverso guardate quando ho pubblicato start up di merda ho ricevute a valanga proprio in realtà nel costo degli ultimi 2-3 anni invece tutti erano d'accordo sul grande titolo adesso dopo il successo chiaramente è la metrica direi, la critica come dice Scandell all'interno del suo articolo è la critica appunto una metrica per il tuo successo per capire a che punto sei perché arriva e funziona cioè ti torna indietro la critica solo se c'è qualcuno dall'altra parte cioè se tu fai un podcast e non ascolta nessuno le critiche non arrivano chiaramente le critiche portano a un punto diciamo di inizio nella tua valutazione ovvero saper discernere, dividere le critiche in critiche costruttive che ci stanno e assolutamente benvengano anche per migliorare e far capire più a te chi è il tuo pubblico e te al tuo pubblico e invece quelle fondamentalmente un po' tanto aggressive cioè quelle che puntano sulla tua persona quelle che puntano su in realtà le tue personalità quelle che arrivano da persone che sono fuori dal cerchio delle tue attività e che quindi non servono a una beata favola quindi se si stai chiedendo ma forse conviene non partire, non realizzare, non fare, non costruire perché poi chiaramente alla mia azienda a me come professionista arriveranno delle critiche bene, sappi che arrivano tutte ed è positivo anche riceverle per come ti ho spiegato se invece speri di cominciare di non ricevere critiche beh, allora vuol dire che se non riceverai vuol dire che non arriverai chiaramente a nessuno e se invece le riceverai vuol dire che è il momento giusto di affrontare il mercato la comunicazione bidirezionale benvenuto nel 2020 e questo il appunto non bisogna avere paura anche questa paura l'abbiamo smontata e abbiamo fatto sì che possiamo dire la paura di essere criticati è falsa non vedo l'ora di capire, di ascoltare, di leggere anche le critiche ogni tanto per capire anche cosa succede sui social come funzionano i social perché anche da questo punto di vista le critiche potrebbero essere migliorate dalle piattaforme sicuramente sì potrebbero essere anche cancellati con i commenti spam assolutamente sì ma bisogna ogni tanto come dire tirarsi sulle maniche e lavorare stando zitti e con questo concludiamo anche il podcast caffettino di oggi se vi va continuiamo la chiacchierata sul nostro gruppo e sul canale Telegram Mario Moroni canale è gratuito ti aspettiamo lì come domani mattina 7.30 nuova puntata nuova paura da distruggere a domani grazie a tutti